Una infrastruttura importantissima che permetterà a tutto il Paese di avere in tutte le località, proprio in quelle anche più remote, più difficilmente raggiungibili, la possibilità della connessione digitale sulla banda ultralarga. Sono finanziamenti importanti e è importante rilevare che per il Veneto ci sarà la quota più alta di finanziamenti rispetto anche alle altre regioni. Sono 315 milioni già utilizzabili che permetteranno quindi sia al sistema delle imprese, sia al nostro sistema delle aziende municipalizzate, sia soprattutto in prospettiva ai cittadini di poter usufruire di importanti investimenti e di importanti servizi poi per poter dare slancio nuovo alle attività economiche, produttive, alla comunicazione, all'attività degli enti locali. E' particolarmente importante l'agenda digitale sia per le imprese, sia per i cittadini, ma anche per modernizzare fortemente la pubblica amministrazione, semplificare la burocrazia, dare insomma quello slancio in modo tale che l'economia e il lavoro possano ripartire.